frà non c'è una mini mappa non siamo su pubg dov'è l'ultimo pezzo veloce che io l'ho montato L'ho montato non ci credo hanno portato il pezzo confusamente Jimbo ho 13.600 punti per favore non morire uccidi spalla per l'amor di dio spalla Gianmarco restarta prima che venga c'è un intercity notte penso di sì bene so cosa fare stanotte sta mappa sta mappa ho rotto sono tutti ragazzi sono zoom e best ed eccoci qui oggi per la prima volta ho rotto il pop filter ah e quello era il codice che devi dare a me grazie dio caro raga ho rotto il attimo copri un secondo per dio raga scusate l'inizio brusco di questo video ma purtroppo è successo un problema tecnico e abbiamo 820 apri la porta allora allora ragazzi siamo su dai rice o mio dio black ops 2 l'ho già vista sta scena però è allora un secondo dove sono i pezzi avete pezzi voi io non ho niente io posso prenderne ancora uno amici dove dove lo trovo no 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 ma è di là nella first room invece nella first room ma io ce l'ho un pezzo ma l'ha preso fra quello che mi sa nella first room sono quattro i pezzi vero appunto si dov'è che è eccolo qua andiamo andiamo vai apri apri questo ok il divano faccio io apri il divano come sempre mi fa un sacco ridere vedere te fare sta roba è sempre molto bello chi se lo sarà inventato no no niente un qualche tasto della tastiera e il pop filter e basta un po' l'asta il microfono ma quella era già rotta no perché di solito prendo la tastiera e la lancio sul microfono riusciremo a raggiungere quella parte della mappa lì perché io ancora non l'ho vista quella raga non va lei ok non ho ancora vista quella parte della mappa lì e penso che sia da raggiungere in breve non esiste quella mappa quella parte di mappa lì è un miraggio signor giammarco cosa ha da dire in sua discolpa per il fatto che lei è molto scarso e finirà a terra più volte di me in questa partita ma guarda punto primo io dico che non è vero se è un falso di merda punto primo no beh lei molto se si dovrebbe permettere non sono più bagate si fra fra no quasi io vi dico che ho trovato una cosa che servirà un sacco cioè raga guardate jimbo jimbo vabbè non sono l'unico bagato almeno stavolta ok andiamo a farci un giro di cassa levati inizia ad andare già di là non ci credo ok ok perfetto aspetta che vado a riprendermi il vaporizzatore non ha l'idea allora voglio farmi una cassa prima perché forse se trovo un'arma forse non muoio già marco che dici beh io dico che hai ragione purtroppo a volte tocca di anche che ragione sono anche in negativo di 13.000 punti quindi dovrò recuperarli nel corso di questa partita cosa vuol dire che c'è in negativo di 13.000 chi è che ha tirato la granata che ho rilanciato una granata roba che mi esplode in mano ok ok quindi mi hai rubato i punti della mia granata si ne uccise un sacco in realtà il galil perfetto questa partita inizia già con il piede giusto io faccio una cassa e mi levo del calcio il team convinto qui presente quest'oggi guardatela rega mark 2 guardatela invece il team convinto c'è una bomba ocio se volete ok va bene 400 punti è fatto bene tanto il round era finito ok raga comunque non so perchè abbiamo deciso di fare questa mappa dato che in realtà questa non è una delle mie mappe preferite signor gianmarco di chi è stata l'idea salve però però è bellina a me piace oh no è bella è bella 820 punti vieni ad aprire qua il divano ma sei scemo va bene apri ok stai calvo Jimbo questa parte di mappa non la vedo tipo da un anno e mezzo bellissimo è un piacere essere qui quest'oggi oh guarda cattiva l'orsetto parco cane dio cane cosa volevi fare niente secondo te avevo qualche piano qualcosa di no no io mi ricordo io e davide che siamo i veterani ovviamente di questi giochi quando ancora voi non eravate nati e ucciditi ci mettevamo in questo stanzino qui a glitchare con l'iquefattore a farci big round abbiamo fatto tipo in un video 70 round standoli fermi e insomma quindi niente volevo raccontarvi sta roba eh qua i round sono belli lunghetti in effetti poi non so se sai ma io all'epoca oltre a mob giocavo anche dai rise e ero arrivato mi sembra a round 60 o qualcosa e poi è saltata la corrente in casa non male non male vero io avevo anche il portatile vedo che tu e la fortuna siete una persona sotto avevo anche il portatile ma giustamente cos'è che si fa col portatile attaccato alla corrente si toglie la batteria no ma a parte che a prescindere avresti voluto il modulo spento coglione ah già è vero si si mi avrebbero è giusto mi avrebbero disposto il server quindi si sarebbe cambiato decisamente è ritardato sono ritardato va bene già Marco apri no chi è che ha il 1800 fra tu no è fra Francesco insomma tu se sbagli il salto ti ammazzo ma no Gimbo cosa cerchi di farmi sbagliare il salto che è lui che ci apre la porta scusami eh no no ho a che fare con un idiota esperto di marketing di sta minchia raga fatevi tu le quattro bibite prima che arrivino le scimmie per cortesia allora questo è il calcio del mulo e non lo prendo neanche se mi paghi adesso vediamo cos'è c'è sull'altro ascensore qui ho giusto un po' di soldi io raga on the other ascension there is a oi bisogna saltarli sopra non volevo ma voglio se saliva se saliva no tornavo su se saliva non ok ok raga tutto bene ciò che finisce bene sentite davanti al tavolo che silenzio che c'è quando si passa davanti al tavolo non l'ho preso io l'ho presa sei un idiota perchè? perchè se uno stava al piano di sotto uno al piano di sopra prendevamo tutti e due ma tu noo devi emulare le gesta del grande zombie best ma ucciditi sfigato affanculo va dove sono i pezzi per la liquefattore di merda non mi ricordo più le posizioni dei pezzi del liquefattore bene però io la posizione di tua ama me la ricordo boom bitch che è da te che bello che è giocare a zombie con Jimbo eh fantastico sempre questo dove sono i pezzi sempre questo alone di oh c'è il paga punch qua porca puttanaccia via da qua di amichevolezza e di no amicizia amichevolezza 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 guarda sono talmente gentili che ti apro la porta cioè in realtà non c'ho cazzo di aspettare l'ascensore là c'è il calzino non ci credo eh bastardo raga ok non si spara vero non si spara 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 la radio segreta nel televisore io dove l'ho messo il porco dio ah eccolo qua appri ste robe che vuoi morire cazzo no no però ti devo dire una cosa io ho già sparato c'è un ritardato ancora prima inizio round e l'ho fatto palesemente apposta ok raga tutto bene che fin ha fatto il calzino chi ha rubato il mio calzino tutto bene zombie dov'è il calzino ti sento nervoso cosa succede zombie si era sciubito fuori quel calzino di merda intanto non è un calzino punto 1 punto 2 lo chiedi con un po' di gentilezza perché insomma io adesso non sono qui a farmi dire no eh oh non esco le cose così agli amici come fai tu se volete ok cos'è che esco no il cazzo ah no no quello lo fai tu idiota qua c'è il paga punch ah l'ho già visto prima ok mi serve il jug raga io andrei di sopra che ne dite va bene cioè mi leverei volentieri dalle scatole qui perché credo che questo non sia un posto per me chi viene su con me però perché non vado da solo ho paura salve fra bravo vieni qua lascia Jimbo solo segui il giocatore forte fra vabbè ho sbagliato il tasto e ho lanciato una gradata dicevamo? niente niente Jimbo ti sento silenzioso sto cercando un modo per fottervi tutto ma no io non ho fatto niente madonna mia ho queste cospirazioni forse non letteralmente ma quanti pezzi ci vanno in totale sul liquefattore raga? quattro tre o quattro dai non ne ho trovato uno io porco dio cioè o c'è la fra o c'è la zombie guarda te guarda te che mestiere sei di sopra ovvio che sono di sopra bravo non dirci niente mi raccomando fai scendere l'ascensore così saliamo ma Jimbo non ti garantisco niente secondo me non ci arriviamo nilco devi venire però no che cosa è successo? windows di merda cosa stai facendo? nilco? fra arrivo sta salendo? sto arrivando ero davanti l'ascensore adesso vai da Jimbo vai da Jimbo eh windows riesci fra? ha fatto qualcosa ma non so cosa ha fatto forse ce la fai Jimbo è li è li è li fra devi no volare di più quanti zombie? fra non ci credo eh non ho bloccato guardalo la col piede zombie se trovo un altro pezzo magari ciao